Allora, tra poco andremo in diretta sulla tv di Casalate in diretta streaming. Abbiamo pronto il collegamento www.casalatecicostelle.it in diretta. Adesso rimando la musica. Massimo. Tu hai fatto quello del tuo... Sti così a schermarla? Sì, sì, sì. Non viene vero, non viene vero. Sti peccato, sti peccato. Ok. La qualità è quella? Sì, sì. Non sei diretta, eh? Faccio così, se ti giunge una te prima. Dai sono toccato. No, non, alevole, bella. E' un bene. Mi quando facciamo così, che ti giunge una te prima. Sì, non facciamo. Non, non, non facciamo. Non facciamo. E questo vuoi? E' un certo. Viti, 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 viti. Viti, 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 viti. Viti, viti, viti. Viti, 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 viti. Viti, 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 viti. Viti, 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 viti. Viti, viti, viti. Viti, viti. Viti, viti. Viti, 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 viti. Viti, viti. Viti, viti. Poi le carichiamo sul sito, le diamo anche ai ragazzi, il filmato va online, poi lo diamo anche loro, si si, sono in diretta, non so, però a volte si sente, per niente, per i cagati le sto dicendo anch'io, un po' molto meglioсолi, non so, però a volte labartoria, si si, sono in diretta, non so, perché, da Latera, secondo e quel motivo, la老 monitored, servevano al70 un nomi, ok dai Chris voglio venire da te Barfin a uscire dalla rampa si lo so allora Barfin a uscire dalla rampa il trick consiste nel saltare fuori dalla rampa e far girare il manubrio dai vediamo c'è anche la birra ragazzi bella uno a passo adesso voglio venire 100 cap 3 100 cap 3 il trick in pratica consiste nel saltare girarsi una volta di 180 gradi e mentre si va all'indietro girarsi di altri 360 gradi e continuare la marcia all'indietro queste biciclette voglio ricordare che non puoi pedalare all'indietro e la bici va all'indietro siamo noi che andando a una certa velocità e tenendo il ritmo della corona facciamo simulare la bici che andiamo all'indietro e se siamo capaci nel tenere i piedi che andiamo a rallentare o a accelerare la marcia andando all'indietro o a accelerare la marcia andando all'indietro altro trick per Christian start down fuori dalla rampa il trick consiste nel saltare e incastrarsi possiamo dire nel manubrio girandosi su se stesso questo trick è molto difficile perché alcune volte ti blocchi nel manubrio e non riesci più a staccarti e finisci per terra prossimo trick per Christian dai vogliamo vedere only pair whip is trick questo trick è veramente pesante questo trick possiamo dire che c'è chi spiega da solo seriamente è pesantissimo allora dai facciamo una combo per Christian one ride e il fletto dai allora facciamo tutto fletto fugge whip perché il campo ha still in pratica il trick consiste nel mettere un piede sulla ruota e far girare il telaio della bicicletta girarsi di 180 gradi mentre lo si fa e mentre va indietro ecco si si gira e si può girare il manubrio e se ne fatti questo non sbaglio il colpo non sbaglio il colpo dai no full can curvi no 3-6 in street dai nuova combo no full can in pratica consiste nel saltare e portare tutti e due i piedi da una parte della bicicletta staccandoli direttamente dai pedali senza cadere ovviamente grazie e non scresciare è un'altra parte di chiuso che noi non abbiamo come c'è l'occhio è una rapidità e come avete visto la bicicletta possiamo farla girare senza freno ecco questa è una tutta altra cosa questo era cap 5 non era delle combo dai no no ultimo 100 bar cap 3 cap 3 dai questa combo è veramente difficile perché consiste nel far girare il manubrio mentre si gira di 180 gradi mentre si va indietro altri 360 gradi di rotazione e alla fine altri 180 gradi di rotazione con il manubrio che gira vai 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 yes chiudo la prima per noi ci vuole magari qualcuno che spiega dei tuoi allora passiamo dal freestyle dmx parkour se qualcuno viene a spiegarci io volevo fare trix 103 si sarebbe 103 kg uno parco no 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 perché to' materno avvice 5 mesi sta girando ragazzi, io a 5 mesi neanche la prendeva con la velocità, è coraggioso di brutto, dai ragazzi, un applauso per lui, ma adesso lo riparo qui, dai man, man, riparo qui, dai, grande dai passiamo a freestyle di parkour con Simone Iaria che ci fa vedere Porche e Capriola, io non so i nomi quindi cercherò di mettere un pochino più simili a Enrique qua, facciamo un aiutante che mi aiuterà un pochino, dai c'è un po' di Sì, è bello quando eravamo un lampo. Oh, è bello nella cucina per favore. Oh, no, 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 no. E ci va? E vedi, ci. Dai, e vieni qua. Va bene, vado bene, perché la terra non è un'unica più importante. Ok, la mia è pronta? Guarda che noi la pensa a male. Vediamo? Guarda che cosa! Guarda che cosa! Guarda che cosa! Io ti ero portato solo con le cose, si, solo la... solo la tappiola Io avevo detto poi vedevo anche le cinture non vede davvero anche noi eravamo ma noi siamo due No, ma non vediamo con Gershel con Conger e... Wester Gershel è stata la prima Conger la seconda sul secondo bancale e la terza è stata Wester è una capriola esatto, è una capriola in avanti facendola, facendola un solo piede Now I will see Wester con... ... 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